Temptation Island, la segnalazione sulla fidanzata e il tentatore. Lo show delle tentazioni condotto da Filippo Bisciglia ha chiuso i battenti raccogliendo un successo strepitoso. Le vicende delle sette coppie che hanno vissuto per un periodo a Santa Margherita di Pula ancora incuriosiscono il pubblico e tanti vogliono sapere che fine hanno fatto i protagonisti di questa edizione. Ebbene, mentre Alessia e Pino, ad esempio, si sono lasciati con quest'ultimo che accusa l'ex fidanzata di averlo diffamato, ci sono altri che ci stanno riprovando. Tony e Jenny stanno ancora insieme, mentre Alex e Vittoria non hanno retto alla crisi. Ma ora vediamo come sono andate le cose tra Gaia Vimercati e Luca Bed che, dopo il fidanzamento di un anno e otto mesi, hanno deciso di uscire insieme dal programma. Ma poi? Dopo lo show Luca ha rivelato, Gaia ha preso delle decisioni che non mi aspettavo e ha deciso di chiudere la relazione perché si è resa conto che ha bisogno di riacquistare l'amore per sé stessa, che magari le è mancato per tanto tempo. Quelle libertà che mi ha concesso durante la relazione, essendo lei la donna che amo tuttora, ero e sono disposto a sacrificarle. Le volevo dimostrare l'amore che ho per lei, che ci sono, che esiste solo lei, e probabilmente questa cosa lei l'ha assorbita come una forma di egoismo, come se non accettassi le esigenze che aveva. Non basta. Gaia è stata infatti avvistata in compagnia del tentatore Jakub Bakur. Le immagini riprese in un post su X parlano chiaro, i due sono al mare, in un momento di relax e soprattutto lei appare infastidita, sorride ma si copre il volto, dal fatto di essere stata pizzicata in compagnia del ragazzo. Non sappiamo se tra Gaia e Jakub ci sia solo un flerto o qualcosa di più serio, ma d'altra parte lei stessa sulla storia con Luca ha detto, il nostro falò è stato molto intenso, c'erano rabbia e delusione, ha spiegato Gaia, una volta rientrati in casa, la mia necessità era di tempo e spazio. Quei giorni è stato un continuo litigare quindi erano subentrati altri problemi, altri punti di domanda. Quando ci sono tanti punti di domanda e c'è una Gaia con un percorso di amor proprio. Erano due strade che non si incrociavano. Ho pianto tantissimo, però la vita va avanti e chi vivrà vedrà. Non rinnego e non rimpiango nulla della nostra storia, rifarei tutto da capo dalla A alla Z, dolore e tradimenti annessi. Servirà per il futuro.